è vero che avete ospitato il raduno annuale di wikipedia si si chiama wikimedia un evento mondiale come avete fatto abbiamo fatto un'offerta che non si poteva rifiutare senza internet sarebbe stato possibile tu che ne dici la prima cosa che hai comprato su amazon due gomme per la mia macchina da rally e l'ultima le altre due i tuoi concittadini dicono che sei instancabile anche mia moglie whatsappi o instagram astaggo ora che esine famosa com'è cambiata la tua vita devo rifiutare molte più richieste di amicizia cos'è esino che gli altri posti non hanno me come è cambiata la tua vita in dieci anni o wikipedia in più sei diventato un esperto di wikipedia c'è un wikipediatra il tuo ultimo hashtag esino capitale è vero che tutto il paese va a scuola d'inglese of course una raccomandazione ai tuoi concittadini maschi di usare l'app di wikipedia anche se le nostre mogli sanno già tutto il tuo provider internet eolo è giovane veloce e arrivo ovunque anche qui